Questa polemica che è emersa con i sindacati per quanto riguarda queste assunzioni, si parla di 50 assunzioni senza concorso, quindi spieghiamo qual è la situazione. Vabbè, tanto preciso che noi non siamo soggetti al concorso perché essendo una società mista non ha da fare concorso. Poi sono assunzioni, non sono 55 assunzioni, ma bensì sono 30 internalizzazioni, cioè noi parliamo di operai che a seguito di un protocollo di intesa firmato dal sindacato nel 2003 insieme alla regione, insieme al Sorical, si erano prefisse di fare un protocollo di internalizzazione datato 2003. Con gli anni i pensionamenti sono avvenuti in Sorical, la richiesta da parte di personale interno era molto frequente e noi abbiamo attinto a questo elenco e quindi abbiamo utilizzato le professionalità in essere per fare questo passaggio di internalizzazione che dura per un anno, contratto a tempo determinato per un anno, perché noi siamo in liquidazione, non possiamo fare l'assunzione a tempo determinato e sono contratti che sono tutelati con l'accordo sindacale. In più aggiungo che sono contratti, questi qua che rispecchiano esattamente la legge, il risparmio di queste operazioni per noi è significato 1.600.000 euro all'anno, perché significa che abbiamo fatto una doppia operazione, abbiamo dato dignità ai lavoratori, che essendo ormai stabilizzati, spero in futuro perché ancora c'è da vedere il passaggio successivo, e abbiamo risparmiato 1.600.000 euro. Quindi credo che sia stata un'operazione vantaggiosa. Con la firma del sindacato, cioè non abbiamo fatto cose senza avere la firma del sindacato e di convendurci, per cui mi risulta strano buttare sul tavolo una cosa così. Mi dispiace perché ha creato disagio sociale, in quanto sono arrivati in due giorni 170 curi, ma mi dispiace perché anche io ho figli disoccupati, quindi capisco che significa avere figli disoccupati in una famiglia. Quindi credo che ci sia bisogno di stare molto più pacati su queste cose e accertarsi che le verità siano sempre fino in modo giusto.